Non ci posso credere, non ci posso credere ragazzi, gira che te rigira, mi metto più qua, mi metto alla mia sinistra OneFootball, la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio, se volete potete scaricarla qui sotto in descrizione. Ragazzi, alla fine della fiera, Iturbe fa la voce grossa, cioè io ho fatto, stai chiamando Gabman, un pronostico assurdo, assurdo, in un mese abbiamo venduto Strotman, Iturbe ha fatto la voce grossa, succede di tutto, succede di tutto, raga, pazzesco, ma Iturbe no, ma che problema c'è? Allora, che cosa è successo, giusto per avvolgere il nastro? Praticamente, ragazzi, Iturbe torna da un infortunio dopo una vita, lo mettono in campo con il Pumas, gioca per il Pumas, lui è un Pumas, lui non lo plagi, lui è un cavallo, lui distrugge tutto, lui è velocissimo, vabbè, l'avete capito, no? E praticamente torna in campo con la maglia del Pumas, gioca 57 minuti, in modo anche abbastanza discreto, dopo quasi un'ora appunto viene sostituito e si arrabbia, da morire, cioè perde la capoccia, fa la voce grossa, non dà la mano a due compagni, va in panchina, si siede, comincia ad insultare l'allenatore in tutte le lingue del mondo, Iturbe! Ma che fai? Iturbe, ma che combini? Ragazzi, anche Iturbe fa la voce grossa, ormai anche... è pazzesco, è pazzesco, è pazzesco! A Roma si dice, anche le pulci hanno la tosse, cioè è pazzesco, ragazzi! No, a parte tutto, io capisco che Iturbe non sta passando un bel momento tra infortuni, dopo l'Elas Verona poteva fare tutto e non ha fatto niente, tra il fallimento di Roma, le avventure varie in presidio dove non è riuscito a fare nulla, poi il Messico... Capisco, eh, capisco, però stiamo cercando tutti di darti una mano, Iturbe, cioè stiamo cercando tutti di farti emergere, ora tu non puoi insultare in congolese l'allenatore, cioè capisci bene che un problema di comunicazione c'è... Più dei 57 minuti non li puoi fare, cioè dai, sei appena tornato dall'infortunio, hai appena avuto questo problema, appunto, stai rientrando nelle gerarchie, placate, placate Manuel, placate... Ragazzi, pure Iturbe fa la voce grossa, e poi siamo arrivati in un momento storico in cui anche Iturbe fa la voce grossa, ma dove siamo arrivati? Ma, boh, io sinceramente trovo un po' triste quello che abbiamo visto e quello che stiamo vedendo, per il semplice fatto che reputo Iturbe un giocatore che poteva veramente fare tanto. Ora, non so perché si ha detto tante cose, si ha detto di Sabatini che era un... che era un... che, insomma, in collaborazione con la Roma avevano deciso di non dire ai Iturbe del... cioè, dire ai Iturbe dell'infortunio, ma di non renderlo pubblico, di non operarlo, quindi di farlo crescere così, di farlo guarire senza il... senza l'operazione, poi questo ha risentito sul fisico di Iturbe, io non lo so, ragazzi, non lo so, questo è un po' di Sabatini, alcune dichiarazioni di altri invece lasciano tutt'altro che pensare a questo, non lo so, so solo che Iturbe, diciamo, a me mi dispiace, quando è arrivato a Roma ero un sacco contento, dico la verità, perché comunque mi sembrava un grandissimo giocatore, io, boh, vabbè, raga, Iturbe, Iturbe la voce grossa, io... boh, boh, io, io resto basito, vabbè, ragazzi, io vi ringrazio qui sempre per la visione, vi è piaciuto, vi lascio un mi piace, in caso di non dare un dislike, iscriviti al canale, mi d'accordo se ancora non l'hai fatto, ti invito, come sempre, a seguirmi su tutti i miei social, boh, c'è la la la, e come sempre, ci ha dato un pra di Iturbe la voce grossa, mua!